Assessore Felice Gaglione, Assessore Lavori Pubblici, tanti cantieri in città, qual è la logica di tanti cantieri contemporaneamente? Allora, innanzitutto grazie per avermi dato questa opportunità di spiegare alla cittadinanza la richiesta che tu mi hai fatto, la domanda che mi hai fatto. Niente, allora, il problema di questi tanti cantieri, sei andato subito dritto alla cosa, quindi non vuoi che ti faccia una premessa generale delle cose, tu sei molto preciso e pungente quando va bene. Allora, il problema è che noi abbiamo tanti sottoservizi in città, quali? Sottoservizi in senso che sarebbero altre aziende che fanno i lavori per la città, nel senso che c'è l'Enel, Gori, Italgas, Federcoop, Open Fiber, eccetera. Cosa sono? Sono passaggi di fibra, problemi di acqua, tubature, Enel, eccetera. Che succede? Che noi come città, è bello dire la città è un cantiere, non riusciamo a fare queste cose, bla bla bla, ma è vero pure che questa amministrazione che si sta veramente prodigando per la città deve mettere per forza in piedi e in atto queste situazioni per arrivare a settembre, ottobre, quando comincia di nuovo il movimento in città e cercare di risolvere il più possibile in questi mesi estivi, luglio-agosto, questi servizi. Perché? Questi servizi cosa fanno? Questi sottoservizi sono legittimati da ministeri, regioni, quindi enti solo ordinati, i quali sono autorizzati, noi facciamo solo una presa d'atto come comune, autorizzati a rompere, a fare un piccolo scavo e rimettere un poco di asfalto. Ovviamente si vede benissimo in città, quando l'azienda fa un piccolo scavo e poi lo ripristina, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi la strada è rovinata, nonostante che noi abbiamo fatto lavori di riqualificazione, di distinzione per le strade. Allora noi come amministrazione, e di questo devo dare atta anche al nostro sindaco Giovanni Palomba, al nostro dirigente l'architetto D'Angelo, ci sono stati dei protocolli di intesa con queste aziende, le quali cerchiamo di farli fare sulle stesse strade, gli stessi lavori, nel senso che tre aziende che devono fare una strada, devono coprire sia la Gori, sia la Fibre, sia la tubazione dell'Enel. Noi cerchiamo di lavorare nello stesso periodo, in modo che ci facciamo fare direttamente la mezza carreggiata, quindi per avere un disagio minore per i prossimi mesi. E non è facile, perché poi può sembrare che hanno fatto la strada sotto casa dell'assessore Caglione, quindi lui l'ha fatto intera e me l'ha fatto a metà. Non è così, le persone devono pure capire veramente l'organizzazione e la tempista di queste situazioni, di questo che andiamo a fare. Inoltre noi abbiamo un piano di riqualificazione delle strade che da qua al prossimo anno, noi faremo 70% delle strade d'ora del Greco, ovviamente stiamo partendo da quelle più trafficate, da quelle più logorate, da quelle più distrutte e quindi andiamo a step, facendo degli step ovviamente ragionando su dove c'è meno traffico, meno strade, qua dove possiamo tagliare una carreggiata a metà, questo è il quadro. Quindi da parte dell'amministrazione ci sta una supervisione, non sono fatti così alla rinfusa, ci sta una supervisione? Allora, assolutamente ci sta una supervisione, ma assolutamente, ripeto, viene monitorata giorno per giorno, ma non solo dall'architetto, ma pure da me, dal sindaco, assolutamente, noi sappiamo in tempo reale qual è la strada che incomincia, qual è la strada che sta finendo, perché questo certo servizio, perché quest'altro, perché noi comunque diamo un servizio ai cittadini, io non sono una persona che comunque faccio una cosa e mi metto subito in televisione a sbandierarle, eccetera, eccetera, però credetemi, io sono supportato dai miei consiglieri, la consigliera Mennelli e dal consigliere Gentile, noi facciamo tanto la città, perché noi la viviamo, abitiamo a Torre, non è che abitiamo a Napoli, a Salerno, a Avellino, Benevento, viviamo questa città e quindi non vogliamo prenderci né critiche, sicuramente chi fa sbaglia, ma chi non fa non sbaglia, noi vi dico che è un'amministrazione che sta facendo questa e noi lo stiamo facendo tanto, non solo, ma sulle strade, noi abbiamo intercettato con l'architetto tantissimi fondi per il PNRR su finanziamenti, dove nelle passate di amministrazione si è pensato solo al centro, va bene, Cesare Battisti, centro storico, eccetera, noi stiamo lavorando per le periferie, noi stiamo lavorando su riqualificazioni di asilo nido a Villa Guerra, Litorania, abbiamo intercettato fondi e metteremo a gara a breve una piscina comunale che verrà fatta nel depuratore della Gori, sia a Terzo Tonco, Litorania, eccetera, ma ce ne sono tante di quelle cose di rematante, le palazzine a Via Lamaria, io ho fatto un cromogramma, ma credetemi, ce ne sono tantissime, le scuole, la riqualificazione delle scuole. Quali sono i prossimi lavori che riguarderanno le arterie di Toro del Greco? Allora, noi abbiamo una media di lavori a farsi, ripeto, le varie strade cittadini per i sottoservizi, che però sono già calendarizzati e qua c'è il calendario di tutti i sottoservizi con le date, inizi e fine, proprio per dimostrarvi la nostra supervisione su queste attività. Ce l'ho candidata, quando uno finisce, poi ovviamente ci sono dei problemi che possono nascere, si rompe un'adubazione, capita un problema e quindi invece di mettere 20 giorni ce ne mettono trend, questo è capitato pure quando uno fa i lavori a casa, è la stessa cosa. Noi come grosse opere che abbiamo già calendarizzate e che già cantierate, alcune sono già messe a gara, bandite a gara, altre invece devono essere ancora messe a gara, abbiamo i 78 alloggi le palazzine di via Cimaglia da riqualificare, ovviamente più le aree esterne, quella zona ricade proprio nella bretella, cioè verrà attraversata la bretella, sarebbe dall'autostrada che arriva a San Antonio. Poi ci sta la cittadella dello sport, che comunque abbiamo avuto il finanziamento e quindi a breve verrà messa a bando la gara. Già sono state fatte le gare per gli studi di progettazione, perché prima di fare un bando esiste una progettazione, ci sono un gruppo di ingegneri che provvede una progettazione, poi sulla scorta e la progettazione si fanno le gare. Marciapieri a via del lavoro, la riqualificazione della Litorania, la scuola Orsi, la riqualificazione della scuola Orsi, Villa Guerra, l'asilo lino a Villa Guerra, che già è a gara e pare che stanno spredando la gara, quindi a breve partiremo proprio con i lavori. La piscina comunale a Leopardi, l'ex depuratore, che è stato fatto un accordo quadro con la Gori, cioè ci siamo riuniti io, l'architetto D'Angeli, il direttore della Gori, l'ingegnere Cuciniello, per cercare di ragionare come riqualificare quella zona, nel momento in cui hanno finito, come avete visto, i lavori al terzo tronco litorale, che pure dovevano durare pochi mesi, invece sono durati 4-5 mesi, quando c'è stata una situazione particolare. Fortunatamente quella strada è più trafficata d'estate che d'inverno, quindi aprendo l'estate, in estate siamo un pochettino riusciti a liberarci di tante situazioni. Poi il discorso delle scuole, le qualificazioni delle scuole, abbiamo tre scuole, e della exepretura, che sarà fatto un solo bando, exepretura delle scuole, l'exepretura sarebbe dove stanno i carabinieri, le varie scuole cittadine, l'alloggio custode, eccetera. Quale è la destinazione d'uso di quel tipo di struttura? Allora, quella destinazione d'uso è una scelta comunque dell'amministrazione, la riqualificazione viene fatta come attività ludico-ricreative, quindi teatro, attività per anziani, disabili, eccetera. Ciò non toglie che essendo fatta con fondi nostri, non è che abbiamo fatto finanziamento per questa cosa, quindi non è che siamo vincolati come la stecca dove dobbiamo fare l'incubatore di impresa, come un'altra struttura, per esempio l'asilo nido e poi il finanziamento per l'asilo nido. No, là possiamo comunque cambiare anche il costo d'opera, qualora l'amministrazione avessimo altra necessità di poter fare qualche altra cosa. Poi, queste sono le scuole, queste sono quelle già cantierabili e pronte, alcune già appaltate, alcune in fase di gara, alcune pronti per bandire il bando di appalto. Sappiamo benissimo, quando si fa un bando per un qualsiasi lavoro, ci sono i giorni per il bando pubblico, 15 giorni, 30 giorni, 45 giorni, a seconda dell'entità dei lavori, ovviamente questa è pura gestione, dove io le so per conoscenza, ma non entro nella gestione di questa situazione, perché noi diamo solo ed esclusivamente un indirizzo politico, però ovviamente vengo aggiornato su questa cosa per relazionare i cittadini, per informare i cittadini e questo è il nostro lavoro. Poi ci sono ancora altre situazioni che vanno intercettate ancora con bandi, il PNRR è quasi un dopoguerra, verranno dati tanti di quei finanziamenti, dobbiamo essere noi bravi a intercettare e devo dire la verità, per quanto riguarda il nostro ufficio dei lavori pubblici con l'architetto d'Angelo e tutta l'equipe che gira intorno, sono molto bravi a cercare di intercettare questi fondi, ovviamente nel momento in cui si intercettano i fondi, dobbiamo essere pure bravi a metterli a banda, a gestire e fare tutte le cose, su questo l'ufficio è molto molto presente, c'è una bella sinergia tra la mia persona e l'architetto d'Angelo, ovviamente sempre relazionato il sindaco, sempre perché il sindaco giustamente ci ha dato spazio, dice fate, portatemi il risultato e noi tutti gli assessori cerchiamo di portare il risultato, ma non al sindaco, lo portiamo alla città e il risultato, non al sindaco. Giunte le redazioni, tante segnalazioni dove segnalano che il mando stradale dopo i lavori viene fatto alla buona, non è proprio perfetto, dossi, buche e altro, a fine lavori ci saranno un controllo di tutte queste attività fatte? Allora, a fine lavoro, come dicevo, come anticipato prima, la maggior parte di questi lavori stradali di asfalto sono fatti dalle ditte che fanno questi sottoservizi, noi non abbiamo ancora messo queste strade per fare noi lavori, perché noi abbiamo in itinere quasi 2 milioni e mezzo di Euro, in un primo lotto di un milione, un altro milione e mezzo per la riqualificazione delle strade, cioè nel momento in cui queste aziende faranno il loro lavoro di tubazione e cose, noi andremo sopra e asfalteremo di nuovo la nostra città come sempre, però purtroppo non possiamo farlo adesso, sarebbe un controsenso, sarebbe sperperare soldi pubblici, perché se noi asfaltiamo una strada, poi viene la fibra e ci fanno sottoservizio, ce la rompe, non è che dobbiamo riasfattarla, noi stiamo aspettando per partire, ma nonostante questo noi comunque abbiamo individuato già delle strade dove i sottoservizi già sono finiti e quindi interveniamo da quelle strade. Si sente di assicurare i cittadini su delle date approssimative di fine lavoro di questa massa enorme di fine lavoro, possiamo dare delle… Caro Ciro, non è che noi possiamo dare una data di fine lavoro, perché noi purtroppo la città sarà un cantiere sempre, perché ci saranno comunque situazioni che usciranno di volta in volta, una volta l'analificazione di una strada, una volta su un'altra, quindi ne apriamo un'altra, quindi ne apriamo una zona grandissima, quindi ti posso solo dire una cosa, che io e i miei consiglieri viviamo la città, quindi se vediamo no bug, se vediamo non ho un problema, se vediamo una cosa siamo comunque i primi a cercare di intervenire su questa situazione, però non potrei mai dirti tra due anni la città è finita, sarà la Svizzera, sarebbe un'utopia parlare di questo, però ti posso dire che ce la mettiamo tutto su tutto e cerchiamo di fare il più possibile, il più possibile, in base alle risorse. Sicuriamo i cittadini che l'amministrazione è presente, l'amministrazione è presente, ripeto, sindaco, assessore dei lavori pubblici, dirigente dell'amministrazione, è presente, e consiglieri, sono presenti tutti, il sindaco lo siamo a delegato, tanti consiglieri, chi ha la spazzatura, chi ha i servizi sociali, chi ha il demare, ognuno sta facendo il proprio lavoro in base alle proprie competenze, quello perché io sono all'ASL, non è che faccio l'ingegnere dei lavori pubblici, però si sa Naboo che ci passo con la macchina dentro, è normale che dico, ma che stiamo parlando? La giustiamo, quindi io sono come voi che mi ascoltate, sono parte di voi, sono come voi perché vivo la città, vivo i problemi, vivo pure le cose belle, e ognuno però ce la sta mettendo tutto con le proprie deliche.